bella a tutti ragazzi sono luca e benvenuti in questo nuovo video oggi un video un po speciale perché andremo a fare un live co op cioè vedrete mai in diretta che compro un prodotto limitato in questo caso andrò a provare a comprare le air force di nike in collaborazione con supreme e come vedete sono già sul sito di supreme ma adesso comunque ancora presto voglio farvi vedere appunto cosa uscirà questa settimana così mentre parliamo anche un po del drop e poi quando si avvicina l'ora x me ne sto tranquillo questa settimana usciranno appunto vari prodotti tra cui i più ricercati dato che non parliamo di tutti i prodotti se no vede un video da mezz'ora ci sono appunto i tre più ricercati che sono le air force che appunto vi ho detto adesso che sono quelle che andrò a provare a comprare e chi mi segue su instagram lo sa già perché l'avevo già scritto se non vi seguite ancora lucaceno trattino basso trattino basso e un'altra cosa ben ricercata sono le cuffie new era col box logo di supreme che ci sono dei bei colori anche se fittano davvero abbastanza di merda e poi abbiamo il coltellino che però sono negli stati uniti e quindi nada noi proveremo a comprare queste air force poi come vedrete ci sono vari pezzi tra cui la collaborazione che mi piace molto e basta poi comunque altre cose classiche quindi noi proveremo le air force vi dico subito ragazzi che nel momento in cui andrò proprio a comprare mezzogiorno in punto il prodotto non vedrete lo schermo vedete me che provo a comprarlo questo perché per privacy e perché non voglio rischiare che mi vada a scatti perché sto registrando lo schermo dato che a volte capita so già che mi chiederete come faccio a comprare su prime eccetera se ci riuscirò ma comunque in generale come faccio a comprarlo uso l'auto fill quindi l'estensione che ti compila automaticamente i campi quindi per evitare ma non fai vedere come compre eccetera seleziono il prodotto lo metto nel carrello vado al check out mi compila da soli campi do l'ordine do l'ok ovviamente nella velocità massima che riesco quindi teoricamente è così una guida dettagliata ragazzi ce l'ho diciamo in programma perché su internet trovate qualcosa non trovate robe che effettivamente poi riuscite a comprare magari le box logo queste cose qua io diciamo ho aggiunto quelle cose lì a comunque robe che mi sono studiato io perché sono abbastanza malato e studio appunto informatica e appunto sono riuscito a trovarmi diciamo il mio metodo per comprare se dovrò fare un video guida per spiegarlo eccetera lo farò come speciale o magari di un tot di iscritti o un tot di follower su instagram però non vi sto parlando di 5000 iscritti ragazzi c'è un vorrei un pubblico bello grosso che il video vada a tutti e che possa aiutare davvero tutti per adesso diciamo ragazzi sono abbastanza geloso e quindi ve lo tengo per me ve lo dico senza peli sulla lingua quindi ragazzi per far arrivare questo video e per supportarmi iscrivetevi al canale e seguitemi su instagram su instagram diciamo che sono molto attivo questi sono i sette motivi per seguirmi come vedete video extra storie sondaggi eccetera per esempio ieri ho comprato una kipper of white a retail quelli che mi seguono su instagram sanno di quale scarpa sto parlando e sanno come l'ho presa o più che altro dove l'ho presa quindi ragazzi seguitemi su instagram e arriverà anche il video dell'unboxing di questa scarpa dove spiegherò un minimo come ho fatto se avete domande su questo video ragazzi fatemene nei commenti non scrivetemi in privato perché tanto non rispondo alle domande per quanto riguarda i video come fatto questo eccetera nei commenti invece per richieste video dovete farmele su instagram quando metto la storia del fammi una domanda quindi non in privato al drop ragazzi manca ancora un po manca un'oretta devo ammettere che prima la connessione non mi andava proprio benissimo quindi sono abbastanza preoccupato perché dopo di su prima ragazzi sono tosti e c'è sempre anche una bella adrenalina da provare per riuscire a comprare comunque per provare a comprare ditemi poi nei commenti cosa ne pensate se avete provato a comprare anche voi qualcosa come vi è andata eccetera vi lascio il link in descrizione di altri video interessanti per quanto riguarda lo streetwear come quello di mystery brand dove apro mystery box online arriverà anche il secondo episodio di mystery brand quindi state attenti iscrivetevi speriamo mi regga la connessione quindi ragazzi direi che ci vediamo dopo al momento clu mentre voi vedrete che sarò di tutto teso farò finta di non essere filmato ragazzi e speriamo in bene like per portarmi fortuna mi raccomando eccoci qua ragazzi manco ancora pochi minuti quindi che dire magari i prossimi drop se c'è qualcosa che mi interessa un po di meno di quello di oggi proverò anche a filmare per vedere se effettivamente mi laggo oppure no anche se in teoria non dovrebbe andare a scatti però per stavolta non voglio rischiare che alla fine non mi voglio far andare in ansia un metodo non voglio che sia tipo una televendita pagami e ti do il metodo cioè alla fine è quello che vi ho detto prima e seriamente come vi ho detto prima solamente che comunque lo faccio velocemente ho perfezionato qualcosina e più che altro ho detto queste cose per rispondere alle domande come fai a comprare su prime eccetera che mi fanno sia in privato sia sotto i video quindi ragazzi la risposta per adesso è questa poi se farò un video guida in futuro risponderò con quello ovviamente dico così perché non è che poi basta cercarlo su internet e trovate identico come faccio io come vi ho detto prima c'è qualcosa su internet ma non come faccio io ragazzi mancano quattro minuti inizia a farsi sentire un po l'ansia questi sono i momenti che mi piacciono un sacco proverò a prendere ovviamente solamente il lea è forse solamente quello vediamo come va poi dico due parole e boh ragazzi manca un minuto un minuto ok ci siamo pochi secondi ragazzi prese ragazzi prese acquistate adesso faccio lo screen alla schermata e ve la metto qui adesso lo state vedendo prese in tutto le ho pagate 183 come state vedendo la taglia la mia as 10 perfetto e ragazzi già adesso sono sold out che ore sono sono le 12 alle 12 00 50 sono già sold out siamo stati belli veloci ok ragazzi sono contento perché sinceramente le volevo assolutamente tra l'altro mi è anche venuta una finestrella che non ho capito solitamente non mi è mai venuta però il pagamento è stato fatto mi è arrivato anche già il messaggio dalla banca che sono stati scalati i soldi quindi confermato arriverà ovviamente anche l'unboxing di queste scarpe sul canale fatemi sapere se volete altri video così fatemelo sapere appunto con un like con un commento iscrivendovi al canale e anche seguirmi su instagram che ci tengo molto tra l'altro mi sembrano siano droppate anche non proprio mezzogiorno in punto ma un po' prima quindi ragazzi direi che per questo video è tutto ce l'abbiamo fatta missione compiuta e niente ragazzi ci vediamo sul mio instagram e al prossimo video quindi bella